Salve, siamo qui per annunciarvi che finalmente ritornano gli Open Day in presenza qui al Giotto Livi, precisamente nei giorni 4 dicembre e 15 gennaio dalle 15 alle 18. Saremo lieti di accogliervi tutti, studenti, genitori, famiglie o chi voglia visitare i nostri ambienti per offrirvi le immagini delle nostre scuole, del nostro istituto per illustrarvi la nostra offerta formativa che è molto ma molto vasta. Abbiamo tre indirizzi di liceo e tre indirizzi per quanto riguarda l'istituto tecnico, quindi la scelta è molto ampia. La nostra offerta formativa si avvale oltre che del curriculum verticale, del curriculum trasversale, anche di molte altre iniziative extrascolastiche. Citiamo ad esempio i numerosi percorsi di orientamento e quindi che costituiscono una sorta di personalizzazione per ogni alunno in maniera tale che ognuno possa essere orientato verso quella che sarà la propria scelta poi lavorativa futura. Abbiamo molte opportunità anche di formazione all'estero e quindi di scambi culturali all'estero attraverso le nostre offerte formative grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto con i progetti Erasmus. Inoltre moltissimi saranno anche gli stage all'estero. Non dimentichiamo nella più ampia ottica dell'inclusione il progetto teatrale e il progetto di musica e a questo punto amo sottolineare l'aspetto e il carattere inclusivo della nostra scuola. La nostra scuola offre percorsi personalizzati per tutti e accoglie al suo interno molti diversamente abili per cui molti sono anche i progetti di vita stilati per ognuno di loro. Molti sono anche i bisogni educativi speciali per cui la nostra scuola attraverso la nostra offerta formativa offre ampi spazi di accoglienza ma anche a moltissime indicazioni per il futuro di tutti. Vi aspettiamo numerosi!